Dopo l'antipasto della tre giorni da Seminello, ad Arizzo si fa sul serio. Squadra subito in campo per due sedute di allenamento. Lavoro duro, ma volti distesi e sorridenti, lo spirito giusto per iniziare la stagione. Prima dell'inizio della seduta, i Rosso-Blu hanno effettuato un gioco di abilità con il pallone. Chi faceva cadere la sfera per tre volte doveva sottoporsi a una penitenza decisa dal gruppo. Passando all'allenamento vero, il mister ha fatto svolgere due sessioni di riscaldamento tecnico, gioco e intermittenza, forza e lavoro per i reparti. E mentre i ragazzi sudavano in campo, sugli spalti si scatenava l'entusiasmo. Abbiamo raccolto le voci dei tifosi arrivati ad Arizzo a sostenere la nostra squadra. C'è chi è venuto dalla Scozia, chi ha lasciato la vacanza al mare per seguire il ritiro e chi asprime in sardo tutta la sua felicità. Sentiamoli. Sono venuto da Oristano perché ho saputo che il Cagliari veniva in ritiro ad Arizzo ed essendo allenatore Massimo Rastelli con cui nutro un'amicizia diciamo così pluriennale, sono venuto a salutarlo per augurargli un grosso in bocca al lupo. Massimo è una persona eccezionale e sono sicuro che qui a Cagliari otterrà dei grossi risultati. Sono venuto da Cagliari con due amici, a dare il benvenuto alla squadra del cuore, sperando che sia di buon auspicio per una pronta risalita in Serie A. Una terra splendida, ne approfittiamo per stare due giorni in vacanza, a respirare, a dormire bene, che c'è un bel fresco e a stare vicino ai nostri colori per quanto sia possibile. Finalmente in ritiro ad Arizzo il Cagliari ha danni che tra amici e compagni di squadra sapevamo che Arizzo poteva essere una destinazione per ospiettare i ritiri di squadra di calcio e finalmente l'impegno da parte di tutti, nuova amministrazione polisportiva ce l'abbiamo fatto. Speriamo che sia di buon auspicio e altri anni sono in vita con salute. Deo salizzo, ma vivo troppo a Genescozia e ho approfittato di sferire, di sferire, di sferire, di sferire, di sferire in Serie A ogni anno. Io spero che il Cagliari torna per merito in Serie A. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.